utilizzando l'applicazione di cui ho parlato sul video precedente che si può vedere in tempo reale tutto quello che succede nel mondo ho voluto andare a vedere quanti bambini sono morti quest'anno in sette mesi ne sono morti 4 milioni 287 mila e 892 bambini da zero da zero a cinque anni ecco ma questo perché ho voluto evidenziarlo per far riferimento a tutto il casino che hanno fatto per il bambino inglese quasi come se fosse l'unico bambino al mondo che sta morendo per una malattia incurabile ecco per dire che strano quasi come se tanti avessero voluto tranne vantaggio dalla sofferenza di quel piccolo bambino considerato come detto prima che sono oltre 4 milioni bambini che sono morti in sette mesi ecco ad esempio dal fatto quotidiano che riporta la notizia di cui parlavo si è mosso sul mondo come dicevo prima quasi come se fosse l'unico bambino ammalato e l'unico bambino che sarebbe morto quest'anno ma gli altri 4 milioni 200 mila bambini non meritavano forse la stessa attenzione la stessa pietà la stessa preoccupazione la stessa fra virgolette pubblicità o no che deve fare un'unico bambino non meritavano per il non che deve fare un'unico bambino può fare un'unico bambino nonbecca